Buona prova di Granamica che in esterno tiene i tre punti in una partita molto combattuta contro la Marignanese. Marignanese che arrivava da un momento magico anche se il parigio di Diggaro subito in estremis domenica scorsa ha lasciato più di un rammarico. La formazione di Lilli scende in campo contro l'ottava forza del torneo. Protti, nome di bomber d'autore, manda il primo avviso con un tiro che risulta essere una semplice chiamata per Razzolini, ma lo stesso numero 11 incuniandosi in area di rigore poco dopo beffa la retroguardia locale dando il vantaggio al Granamica. 1-0 dunque per la formazione ospite. La Marignanese risponde subito dalla bandierina cross di Carnesecchi. Grande staffilata di Mazzoli, Farinella respinge con i guantoni aperti sui piedi di Generali che sigla così il pari 1-1 il parziale con Generali che ringrazia poco dopo il protagonista dell'azione Mazzoli per aver contribuito alla propria marcatura. Ma la partita rimane viva, Borgonovi mette al centro il pallone che Fiorentini deposita in fondo al sacco battendo per la seconda volta Marco Azzolini. Siamo solo 1-2, Granamica che si mette in mostra nuovamente quando Raspadori è lanciato in profondità chiama a grande intervento i bravo Azzolini. La punizione di Carnesecchi, la Marignanese va vicino al pari, acrobazia in area di rigore cercata fortemente da Pensa al fine, pallone fuori misura. Nella ripresa Fiorentini va via all'avversario, mette al centro Protti, agguanta la sfera e va la battuta, prontamente respinta dal muro difensivo. Ma l'attaccante trova una seconda deviazione che vale il trisse. Marignanese 1, Granamica 3. Dal corner il colpo di testa di Pensa al fine non viene raccolto da nessuno dei compagni, occasione che sfuma per la Marignanese. Sul versante opposto Samba regala palla a Protti, l'attaccante serve il partner d'attacco a Raspadori che prova a piazzare il pallone ed è possibile 1-4, pallone fuori dal bersaglio. Ma la Marignanese non molla, la squadra di Lilli rimane in gara e la conclusione di Mazzoglio a mettere alla prova i riflessi di Farinella che si rifugia in corner. Dalla bandierina arriva il colpo di testa vincente di Sanchini con involontaria collaborazione di Farinella, 2-3. Marignanese la disperata ricerca del pareggio dall'angolo Massari di testa mette a lato facendo terminare qui le proprie chance di pareggio da parte dei giocatori in maglia bianca quest'oggi con i Granamica che spugna San Giovanni Marignano. Per la Marignanese un passo falso che non nacchia il grande campionato della squadra di Lilli. Via la Marignanese un battaglio di l'angolo Massari che ci f CC